Era finito sotto processo per il reato di uccisione di animali per aver avvelenato il cane Pitbull, lasciato agonizzante e senza cibo, ma nessuna prova è emersa davanti al giudice del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, che ha assolto LL, 54enne residente a Corfinio, la vicenda avvenuta nel piccolo centro Peligno, risale al 23 dicembre 2019. Secondo l'imputazione della procura, l'uomo aveva sottoposto a Sevizie un cane Pitbull maschio di tre anni in suo possesso, lasciandolo legato agonizzante a un palo di ferro, ferito e stato di stepsi e di abbandono, senza acqua né cibo, con una ciotola di prodotti velenosi che causarono la morte dell'esemplare. Fertilizzanti che in realtà non sono stati rinvenuti né sul luogo dove avvenne il fatto né sulla carcassa del Pitbull che era stata sottoposta ad autopsia dopo la denuncia presentata da una guardia zofila. Il decesso è avvenuto per cause naturali, nello specifico per la lesmagnosi, malattia infettiva e contagiosa. Da qui la soluzione.